Ciao amici Come avete visto già dalla intro Purtroppo Anzi facciamo questo piccolo cappelletto Purtroppo con la gola sono un pochettino Diciamo non sono al meglio delle condizioni Ho un po' di raucetine Ma passiamo subito a questo Come avete visto dalla intro Ragazzi ho ordinato una piccola cosetta Veramente veramente low cost E ho fatto questa Sto facendo questo video Per portare questa piccola combo Creata da me Perché ho visto diverse promozioni Su subito e su pesca promo Infatti questa è di pesca promo E un'altra su subito Parlando del mulinello Che vedrete successivamente nel video Ma adesso ragazzi Passiamo a questo unboxing E anche perché mi sono tra virgolette un pochettino presso di invidia Su Giacomino che Si vantava della sua Anzi no non si vantava dai lo diciamo per scherzare Che ha fatto vedere La sua colpo Stratis mi sembra che si chiami così 10,55 grammi Con mulinello castking Della castking di Aliexpress Trecciato un po' tutto A 70 euro E io mi sono fatto tra virgolette una sfida Tra me e me E ho detto ma io riuscirò a superare E a spendere meno di quanto ha speso Giacomino Ebbene si ragazzi Pesca promo Questa canna l'ho pagata semplicemente 26 euro Se non erro 27 massimo Ed è una canna che Molti sul gruppo di spinning low cost Che vi invito Adesso lo metto qua Dove c'è la farbicetta Praticamente fa spinning low cost Quindi lo vedrete qua E mi hanno chiesto Cioè abbiamo un po' parlato Questo gruppo Quindi iscrivetevi Se non siete iscritti Facciamo consigli Gente Potrete conoscere pescatori come voi Organizzare pescate con altri pescatori Angers della vostra zona E così via Quindi mamma Questa voce mi sta distruggendo E anche a me piace parlare tanto Ragazzi lo sapete Comunque torniamo subito a noi Ultimate Ultimate Predator Spin Gig Spin forse si chiama Canna sconosciuta A tutti noi nel gruppo Abbiamo detto ma che facciamo La compriamo Io l'hai provata Ragazzi Il vostro Nicky L'ha comprata Ha trovato la promozione E l'ha comprata Si è tra virgolette Offerto Diciamo se Si sta suicidando Per voi Perché? Perché sta acquistando Una canna Che non sa com'è Perché? Il perché di questa canna Di questo acquisto Perché semplicemente Ragazzi volevo una canettina Da lasciare magari Da utilizzare sul kayak Oh oh Forse non dovevo dirlo Comunque Andiamo subito avanti Una canettina da utilizzare Sulla barca Molto semplice Ovviamente Lo budget Quindi pure che magari Succede qualcosa Si rompe La rubano La dovessero rubare E quant'altro Non mi interessa Niente Oppure una canettina Da utilizzare Con gighettini Diciamo da 8 Da 10 grammi Quindi Siccome la canna È 10.30 Ero curioso di sapere Come si comportasse Con gighettini Anche sotto La sua grammatura E Far vedere Una volta Per tutte La canna Riesce anche a lanciare Meno di quanto Viene descritto Quindi 10 30 Quindi meno di 10 E forse anche qualcosina In più di 30 Anche se onestamente Io A lanciare di meno Si A lanciare di più Onestamente Non so com'è la canna E non la voglio Rampere Comunque ragazzi Andiamo subito Al nostro Unboxing Gli anelli Non so come sono Il fusco Non so com'è Allora Iniziamo già qua A vedere un anello La canna Sembra 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 Carina Già Ho visto Una piccola Pecca Sego per me Come piacciono A me le canne Allora Impugnatura Questa qui È bella Però Bisogna capire Se la lunghezza Perché Praticamente Io La utilizzo Vedete Così Col gomito Mi regolo In base al gomito Se L'impugnatura Diciamo La parte di dietro Finisce Dopo Del gomito Per me Per me Praticamente Per metterci Il mulinellino Qua io andrò A mettere Un mulinellino Che ho trovato Anche quello In promozione Su subito Mulinello Praticamente Come nuovo Solo perché costava Quel prezzo L'ho acquistato Ne ho approfittato Al volo L'ho pagato 30 euro Con un euro Di spedizione Un euro e 50 Mi sembra Non ricordo bene Di spedizione Ho comprato Il Sedona Il modello Nuovo C3000HG Che vedrete Ora subito Subito dopo Questo unboxing Molto rapido Splittatura Qua Così Argentato Qui Molto Bellino Caratteristico Mi piace Qua Splittatura In carbonio Non c'è nessuna Scritta E poi andiamo All'impugnatura Al manico Dietro Molto bellino Con questa Quest'anellino Così Argentato Qua poi Ovviamente Questa carta La andiamo A togliere Ragazzi Vi devo dire La verità Mi ha sorpreso Questo qua L'anello Ha ovviamente La sezione Quindi Ultimate Targhettina L'anello Penso che Siano Isea Guide Non penso Che siano Assolutamente Fuji Ne altro Quindi penso Il classico Sik Ragazzi Può essere Veramente Una Una bella Gannettina Da acquistare Anche Magari Per iniziare Sezione Superiore Non c'è Nessun Tipo Di scritta Solamente Qua Degli Anellini Dorati Gli Anelli Anelli Singolo Ponte Che mi Sembrano Abbastanza Abbastanza Non Un po' Un po' Semplici Ragazzi Per il prezzo Che è questa canna Vedete che Secondo me Certo Non c'è da aspettarsi Chissà cosa Però secondo me È fatta Veramente bene Si piega Quasi In punta Quindi comunque Secondo me L'azione È una Una fast E quindi ragazzi Questa qua È la canna Io adesso Non vedo Di provarla E di farvi Sapere Come Come va Come è Schnell Passero Ultrario Oh Che L'itis Chi Qu mau Ann snowball Per Che Che Really Che 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 allora ragazzi alla fine ho deciso di imbobbinare il Sedona con il tracciato 011 e lo abbinerò alla canna da edging quindi non lo vedrete sulla canna da spinning questa qua 1030 ma vedrete lo Shimano Sahara C3000HG quindi comunque possiamo dire lo stesso mulinello solamente che cambia che ha 5 grammi in più di peso quindi 245 grammi e ovviamente avrà un tracciato differente questo era un Joff di Aliexpress di 011 questo qua invece che ho a disposizione è sempre da 100 metri x4 sarà un 012 se non erro addirittura 013 quindi adesso andrò a imbobbinare questo Joff nel mio Sedona e successivamente metterò il Sedona che avevo nella canna da edging nella canna da spinning 1030 quindi possiamo dire che sto semplicemente invertendo i mulinelli quindi questo andrà da edging questo qua è quello che ho preso subito e questo che comunque l'ho pagato comunque non l'ho pagato a prezzo pieno l'ho pagato 40 45 tempo fa che era nella canna da edging lo andrò a mettere nella canna da spinning perché comunque ovviamente questo qui essendo leggermente più potente essendo che la manetta si avvita sul corpo e non come questo qui che la manetta si avvita tramite la vitina che abbiamo a destra mi dà un pochettino di più di sicurezza visto che la pesca dei cefalopodi per adesso è diciamo un attimino in stand by in pausa vorrei dedicarmi un pochettino più alla caccia di qualche predatore importante quindi vorrei avere un mulinellino un attimino più potente per insidiare qualche bel predatore quindi ragazzi adesso andrò a immobbinarmi il mulinello e noi ci vediamo alla fine e allora ragazzotti eccola qua la nostra canna è pronta eccola qui la predator spin ultimate predator spin adesso apriamo la fezione la chiudiamo quindi ragazzi questa qua questa bella canna low cost vedo l'ora di vederla alla fine come avete visto ho optato per mettere il lo shimano sahara 3000 che secondo me ragazzi una canna del genere su questa grammatura 10-30 grammi secondo me il 3000 ci può stare anche perché comunque come peso non è non è effettivamente tanto è una canna che secondo me è una combo che a parere mio ragazzi è bilanciata indipendentemente se è 2 metri e 10 o 2 metri e 40 mi hanno detto che di questa canna ci sono altre grammature se non sbaglio 7-28 grammi 10-30 forse anche 10-45 15-45 comunque ragazzi non mi ricordo potete tranquillamente trovarla su internet oppure su pesca promo basta scrivere ultimate predator spin e jig dovrebbe essere ancora sconto tra i 26 e 28 euro adesso non mi ricordo perfettamente perché ragazzi l'ho acquistata proprio velocemente per la paura di perdere lo sconto quindi il mulinello questo qua ce l'avevo già l'avevo acquistato per pescare edging ho semplicemente l'ho semplicemente imbobbinato e ho messo questo mulinello perché il sedona che avevo acquistato da subito l'ho semplicemente messo nella canna da edging che comunque è ferma perché il momento la stagione estiva sta arrivando perché ho preferito mettere questo qua per il semplice perché ho preferito mettere questo per il semplice fatto che questo qua ragazzi a differenza di quello questo qua come vedete ha la manettina vedete che si avvita vedete direttamente si svita direttamente dal corpo quindi io così lo svito vedete con la nostra vite lo inserisco qua al suo interno giro giro quindi vado a chiuderlo ecco qua e lo vado a bloccare e il mulinello praticamente così mi dà diciamo una una garanzia una sicurezza in più qua non so se si vede ho fatto il ovviamente l'aggiunzione tra il fluorocarbon e il trecciato ho scelto un fluorocarbon diciamo un po così secondo me diciamo ho preso quello che avevo ho utilizzato uno 035 su un trecciato è comunque uno 012 o 013 adesso non ricordo io tipicamente su un trecciato 016 che però non è 4 capi ma è 8 capi utilizzo sempre un 040 tra il 40 e il 45 anche un 40 comunque ragazzi può andare bene quindi niente ragazzi non resta altro che provare questa combo combo che ovviamente ho preso un po così lo costa da non spenderci molto perché come vi ricordo ho già la mia combo seria possiamo dire così da spinning 12 50 grammi ossia la mad mouse acquistata dall'express e il mulinello la shimano stradic 4000 un signor mulinello però secondo me ragazzi anche così secondo me ha il suo perché non e Grazie a tutti.